Reggio Ravagnese in visita a Monasterace per la 24esima giornata del campionato d'eccellenza calabrese in aperta crisi di risultati la stilo Monasterace, squadra molto giovane e risucchiata in piena zona play-out con 7 sconfitte nelle ultime 7 partite Amaranto che dovranno completare la gara interrotta contro la Paolana, acciuffati precedentemente sul risultato di parità nei minuti di recupero contro la Palmese Serve una vittoria ragazzi di Mister Misiti per dissipare ogni dubbio sulla salvezza e tornare a coltivare magari Speranze play-off, arbitra il match Katia-Cilento e la sezione di Cosenza assistita da Raffaele Salitura e Giovanni D'Amico Passiamo al racconto del match grazie all'immagine a cura di Giuseppe Boncordo al sedicesimo passaggio di Puntoriere respinto da Lococo arriva a Franzò calcia mandando in bocca a Tassone, al ventesimo entra Ogbe Borro per l'infortunio di Maesano in campo 39esimo cross di Franzò non trattenuto bene da Tassone, ci prova allora Romano che calcia centrando Coluccio Un minuto più tardi è Tersino a innescare Romano che brucia il diretto marcatore, apre il destro che viene però respinto dall'estremo difensore locale Termina così la prima frazione di gioco squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa Dopo due minuti arrientra in campo delle formazioni, prima occasione di marca stilo Monasterace con il destro di Suraci mandato in corner da Currà Poco dopo l'ora di gioco lancio lungo per Galati che viene steso da Currà La signora Scilento lascia proseguire tra le proteste locali 66esimo secondo cambio per Mr. Misiti Entra Buda in luogo di Franzò e Reggio Ravagnese che al primo tiro in porta della ripresa trova il vantaggio Gran palla di Verducci per Puntoriere che controlla, tocco sotto, batte Tassone per il vantaggio Amaranto 0 a 1 la rete di Giulio Puntoriere nel finale gara dentro Riso per Polimeni segue l'ingresso in campo di La Villa per Falzia Al secondo minuto di recupero però la punizione di Paparo pesca la testa di Gergo Conclusione che termina sul fondo risposta della Reggio Ravagnese un minuto più tardi Spazzata della difesa sui piedi di La Villa che carica il destro Trova la faccia piena della traversa Questa l'ultima emozione di questa sfida a Reggio Ravagnese che porta a casa tre punti di misura Grazie alla marcatura di Giulio Puntoriere innescato all'assist delizioso di Verducci Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima Grazie a tutti